Musica Maggioranza e opposizione non sono muri invalicabili. Michele Emiliano Blinda Roccopalese ha l'assessorato alla salute e risponde al fuoco di fila interno ed esterno al centro-sinistra. I democratici tornano al tavolo, una parte di loro conferma la richiesta di ritirare gli assessori dalla giunta. Dal lungomare barese alla centrale piazza Santo Ronzo a Lecce anche la Puglia spegne edifici e luoghi simbolo per protestare contro il caro energia e chiedere interventi al governo. Le procure di Bari e di Lecce indagano su due casi di morte avvenuti pochi giorni dopo la somministrazione del vaccino. In particolare i PM concentrano le loro indagini sul decesso di una 56enne di Nardo e di un 54enne di Galatina. Ben ritrovati con l'informazione in diretta di Antenna Sud. Apriamo questa edizione del Tg con la politica. Maggioranza e opposizione non sono muri invalicabili. Emiliano Blinda Roccopalese ha l'assessorato alla salute e risponde al fuoco di fila interno ed esterno al centro-sinistra. I DEM tornano al tavolo e una parte di loro conferma la richiesta di ritirare le assessore in giunta. È chiaro che io ho la responsabilità di un programma di governo, di una maggioranza, di alcune idee che non cambiano, però ho a disposizione una persona di grande competenza, un tecnico, un medico, peraltro assunto dal sistema sanitario regionale. Nulla di male. Michele Emiliano lo ripete a più riprese a Canosa, a margine di un impegno istituzionale nel nord barese. Il riferimento è alla nomina di Roccopalese, a nuovo assessore alla sanità che continua a terremotare gli schieramenti. I democratici torneranno a riunirsi all'inizio della prossima settimana, ripartendo dalla proposta del fasanese Fabiano Amati. Ritirare la delegazione dalla giunta dopo il faccia a faccia alla presenza dei parlamentari e del gruppo di Via Gentile. Io lavoro per la Repubblica, non per singole forze politiche, chiarisce il governatore. È chiaro che la democrazia funziona con maggioranza e minoranza, ma non sono dei muri invalicabili, conferma. Già nell'escorsione era stato il segretario del PD pugliese, Marco Lacarra. Arriva a dire come l'ingresso nell'esecutivo del direttore di distretto ed ex candidato del centrodestra non spostasse la barra sul programma. Emiliano non ha dubbi, nulla di male. Mi hanno detto, no, se l'è andato, perché Emiliano diceva sempre lui l'ultima parola. Adesso che è arrivato Paletti dovrebbe cambiare, cioè dovrei essere io a subire l'assessore. Difficile. Restiamo in tema politica. Il garante del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, a Roma per incontrare i vertici del partito dopo lo stop alla presidenza di Conte. Gli incontri sono in corso. Beppe Grillo è arrivato a Roma per trovare una via d'uscita dopo l'ordinanza del Tribunale Civile di Napoli, che ha decapitato di fatto i vertici grillini. Non vi posso lasciare un attimo da soli che combinate i disastri, avrebbe detto il garante dei 5 Stelle, che ha incontrato prima i vertici del Movimento. Il primo faccia a faccia è stato invece un colloquio, a quanto pare piuttosto lungo, all'hotel Parco dei Principi, con il ministro Luigi Di Maio e i suoi avvocati. Si parla di un clima atteso, soprattutto per un possibile ritorno in vista delle votazioni sulla piattaforma Rousseau. Per Grillo è complicato da spiegare a livello politico e legale. A seguire l'incontro con l'ex sindaca di Roma, Virginia Raggi, ed infine Giuseppe Conte, che ha l'obiettivo di chiudere in fretta la partita e tornare a riprendersi la leadership del partito. Il pericolo che incombe intanto è quello di finire in una spirale di cause che prosciugherebbero le casse e le risorse politiche. Nelle scorse ore aveva preso quota l'ipotesi di fare subito una votazione per modificare lo statuto del Movimento 5 Stelle, senza eleggere prima il nuovo comitato di garanzia. Ipotesi che Grillo ha stoppato per timore di andare incontro a un nuovo ricorso che il legale dei ricorrenti di Napoli, Renzo Borré, si era già detto pronto a intestarsi. Proprio l'avvocato ha fatto intendere che vede un iter preciso che riguarda il Movimento e prevede la nomina di un comitato di garanzia, quella del comitato direttivo, e infine il voto su Rousseau, spiegando che un percorso alternativo potrebbe portare a nuove crele giudiziarie. Adesso la lettura del bollettino epidemiologico. Sono 5.778 nuovi casi a fronte di 40.824 test, 21 decessi in Puglia. Scendono le persone attualmente positive a 101.544. Salgono di poco i ricoveri. 748 in area non critica, 68 in terapia intensiva, per un totale di 816. Mentre va avanti la campagna vaccinale, la Procura di Bari e quella di Lecce indagano su due casi di morte avvenuti poco dopo la ricezione della terza e della prima dose di vaccino. Le Procure di Bari e di Lecce indagano su due casi di morte avvenuti pochi giorni dopo la somministrazione del vaccino. In particolare, i PM concentrano le loro indagini sul decesso di una 56enne di Nardò, avvenuto il 26 gennaio scorso nel Policlinico di Bari, dove era stata trasferita una settimana prima per il peggioramento delle sue condizioni, e di un 54enne di Galatina, morto due giorni dopo la somministrazione della prima dose del vaccino Pfizer. Per quanto riguarda il primo caso, la famiglia della donna sostiene che avrebbe sviluppato sintomi alcuni giorni dopo la terza dose del siero Moderna, che le era stato somministrato il 18 dicembre nel lab vaccinale di Nardò. La PM di Bari, Angela Maria Morea, ha disposto l'autopsia per accertare l'eventuale correlazione tra il vaccino e i sintomi che hanno portato al decesso e l'eventuale presenza di patologie pregresse. Stando alla denuncia delle figlie della donna, subito dopo la somministrazione, la signora era svenuta all'interno del lab, poi si era ripresa ed era tornata a casa, ma nei giorni successivi, oltre agli effetti collaterali più comuni al mal di testa, le figlie avrebbero notato gli occhi ingialliti. Il fascicolo d'inchiesta, aperto dalla procura, ipotizza come atto dovuto il reato di omicidio colposo a carico di ignoti. Indagati sette medici con l'accusa di omicidio colposo e di responsabilità colposa per morte in ambito sanitario, invece, per il decesso del 54enne di Galatina. Lunedì 14 febbraio sarà eseguita l'autopsia da parte del medico legale Alberto Tortorella e del cardiologo Giuseppe Antonio De Giorgi. Ora la cronaca, violente e tragica lite tra giovani a Manduria, un sedicenne arrestato con accusa di tentato omicidio. Al culmine di una furiosa lite ha tirato fuori il coltello, aggredendo e ferendo gravemente il rivale 19enne finito in ospedale in codice rosso. Sono ancora tutte da comprendere le motivazioni dietro all'incredibile violenza sfoderata da un sedicenne di Manduria, accusato di tentato omicidio e porto abusivo di arma, ovvero la lama poi sequestrata dai carabinieri di Manduria, intervenuti nella serata di mercoledì ad Uggiano Montefusco, la frazione dove si sono verificati i fatti. Sconosciuto ancora il movente, il 19enne ferito gravemente dal torace, raggiunto da diversi fendenti, è stato medicato prima al pronto soccorso del Giannuzzi e poi trasferito al Vitofazzi di Lecce nel reparto di chirurgia toracica, dove è tuttora ricoverato, non è in pericolo di vita. A stretto giro invece i militari hanno rintracciato e arrestato in flagranza di reato il giovane incensurato, poi condotto nella sua abitazione in stato di fermo, come disposto dal PM di turno presso la procura dei minori di Taranto. Il coltello, arma del presunto delitto, è stato ritrovato dai carabinieri nell'abitazione dell'indagato nelle prossime ore nell'interrogatorio di convalida. Potrà emergere qualche dettaglio in più su una vicenda ancora poco chiara e su cui tutti, per il momento, mantengono il massimo riservo. Ora la protesta contro il caro energia, da Lungomare Baresi alla centrale Piazza Santo Ronzo a Lecce, anche la Puglia tra pochi minuti spegnerà edifici e luoghi simbolo per protestare contro il caro energia e chiedere interventi al governo. Piazze, monumenti e edifici simbolo delle città pugliesi, come quelle del resto d'Italia, tutto al buio. Pochi minuti simbolici contro il caro energia, da nord a sud, le associazioni regionali del Lanci hanno raccolto l'invito del Presidente nazionale, Antonio De Caro, per inviare un segnale al governo. Rincaro dei costi energetici non a caso, vuol dire pesanti ripercussioni previste su famiglie e imprese, già duramente provate dalla pandemia, mettono in guardia i primi cittadini di tutta Italia, ma anche sugli enti locali, mettendo a rischio l'erogazione di servizi alle comunità. Si spegne il lungomare di Bari, ma resta spenta anche piazza Santoronzo a Lecce e piazza Aldomoro a Polignano. Spenta la fontana greca di Gallipoli, come palazzo Garagna Feiner venia a Brindisi, al pari del Teatro Verdi, del capoluogo Messapico. Si spegne e piazza Dossetti a Noicattaro, ma anche la fontana Lombardia a Trigiano nel Barese, soltanto a citarne alcune. Stavolta sarà così soltanto per pochi minuti, ma c'è anche chi teme di essere costretto a ridurre d'ora in poi le ore di illuminazione notturna in alcune aree delle città. Al buio dunque, per scongiurare il breakout. Garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la legalità, protocollo d'intesa questa mattina in Prefettura Taranto. Abbiamo registrato nella comparazione tra periodi omogenei del 2020 e del 2020 un innalzamento inaccettabile delle morti sui luoghi di lavoro. Quindi, pur conoscendo, pur sapendo bene che questa è una tematica di grandissima attenzione anche a livello nazionale, che già sono in corso le attività per garantire rinforzi in termini di ispettori agli enti competenti, noi ci siamo posti il problema di che fare in questo spazio. Garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso la legalità è quanto prevede il protocollo operativo sottoscritto in Prefettura Taranto. L'obiettivo è ridurre l'impatto negativo degli infortuni, in particolare quelli che avvengono per inosservanza delle norme sulla sicurezza. Un fenomeno che nella provincia ionica ha fatto registrare numeri preoccupanti, a tal punto da attivare la conferenza provinciale permanente, il cui lavoro ha portato alla sottoscrizione dell'intesa tra prefetto, presidente della provincia e commissario straordinario del Comune di Taranto, oltre agli uffici pubblici che si occupano della vigilanza del controllo, ai sindacati, alle associazioni datoriali che operano nei settori dell'edilizia e dell'agricoltura. Un passo in avanti per migliorare le condizioni di lavoro e spingere i soggetti coinvolti al rispetto delle norme vigenti. Un'ulteriore attività di verifica verso quei settori che magari per tante ragioni non sono oggetto di attenzione come dovrebbero, ci riferiamo ai microcantieri, all'edilizia, soprattutto quella privata, all'agricoltura, perché il lavoratore che si rega a svolgere la propria prestazione per garantire il reddito a se stesso e al proprio nucleo familiare non può avere il timore, il pericolo di non tornare a essere a casa. Quindi questo è un obiettivo che ci dobbiamo porre tutti, sia chi ha una competenza specifica, sia chi comunque è rappresentante del governo sul territorio, ha una competenza in materia di sicurezza in generale. Cambiamo argomento da domani, via le mascherine all'aperto. L'ordinanza del Ministro della Salute Roberto Speranza è stata firmata, un altro piccolo passo verso il ritorno alla normalità. Da domani, 11 febbraio, via le mascherine all'aperto, ma è obbligatorio averle con sé e utilizzarle in caso di assembramento. Le disposizioni dell'ordinanza valgono per tutte le regioni d'Italia, di qualunque colore siano. Il Ministero specifica che si applicano anche a quelle a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano. L'obbligo di indossare la mascherina resta quindi al chiuso, ma solo fino al primo aprile, quando una nuova ordinanza potrebbe di fatto consentire di non utilizzarle più. Non devono indossare la mascherina i bambini di età inferiore ai 6 anni, le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile. Niente mascherina anche durante le attività sportive. Da domani potranno riaprire anche le discoteche, seguendo i protocolli già approvati. Potrà entrare soltanto chi ha il Green Pass rafforzato, quindi guariti o vaccinati. Se la discoteca è al chiuso sarà obbligatorio indossare la mascherina, tranne quando si sta in pista a ballare. Nelle discoteche all'aperto si potrà stare invece senza mascherina. Il limite di capienza di tutti i locali da ballo non può essere superiore al 75% all'aperto e 50% al chiuso rispetto a quella massima autorizzata. Si profila anche la riepertura degli stadi a capienze più ampie, con gradualità, a partire dal 75% fino al 100%. Per l'informazione regionale è tutto, a tra poco per le notizie dei territori.